Questo è il secondo appuntamento col treno del pensiero a Mola. L'argomento trattato è quello delle società pacifiche, l'obiettivo 16 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. A Mola perché insieme a Mola e ad altri comuni la Verdevia ha incominciato a sviluppare un progetto di definizione di una strategia di approccio alla sostenibilità. Ci sono delle azioni interessanti che potranno essere fatte in futuro sia per la popolazione residente sia per i giovani che in questo momento guardano alle città del nord d'Italia e del nord Europa come possibile destinazione. In questa serata sono stati presenti quattro esponenti, tutti e quattro raccontano delle esperienze legate alle fondazioni delle società pacifiche attraverso la loro esperienza professionale e le loro conoscenze. Questo per dare alla comunità delle possibilità di sviluppo future, degli spunti di azione utili per la definizione di strategie future. In qualità di consigliere comunale con delega allo sviluppo rurale e valorizzazione del patrimonio enogastronomico, posso dire che il Comune di Mola certamente intende avviare dei percorsi alternativi a quelli attualmente in atto per quanto riguarda le produzioni ortofrutticole, comunque agricole in generale, proprio per cercare di dare avvio a delle strategie che siano più sostenibili. Per fare questo sicuramente è indispensabile l'attenzione del Comune anche verso la formazione delle giovani generazioni, affinché anche loro siano attenzionate ad avere un interesse per il domani. È chiaro che per poter consentire, per poter costruire insieme un futuro in cui le produzioni siano innanzitutto salutistiche, è necessario avviare dei percorsi di produzione sostenibili e per questo stiamo lavorando, ripeto, tanto per la formazione dei giovani e anche in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, affinché questo sia un percorso da portare avanti insieme, sia come amministrazione che come associazioni e anche per quanto riguarda il mondo formativo. Noi abbiamo semplicemente raccontato la nostra storia, che è una storia molto molto semplice, di due persone che si sono reinventate avendo l'obiettivo di trovare e custodire dei grani antichi e di coltivarli sul territorio in collaborazione con agricoltori che hanno voluto accettare la sfida insieme a noi di portare avanti queste coltivazioni con bassissime rese, con ostacoli che sono gli ostacoli della coltivazione biologica, della coltivazione senza l'uso in campo di nessun aiuto che potesse in qualche modo migliorare le caratteristiche di questi grani. Infatti noi collaboriamo col CNR e proprio in questa, si può dire, riscoperta anche analisi scientifica di queste varietà antiche nel loro sviluppo, anche delle proprietà che hanno. È ovvio che questo genere di attività comporta tutta una serie di difficoltà, che sono delle difficoltà non soltanto legate al clima ma anche, come è successo quest'anno, legate purtroppo alle condizioni delle campagne forse, perché purtroppo abbiamo dovuto subire la perdita dell'intero raccolto del grano duro e per noi è stato sicuramente un qualcosa di scioccante che ci ha fatto un attimo, sicuramente ci ha reso abbastanza paralizzate perché ovviamente è stato difficile poter proseguire questa avventura, però devo dire che il sostegno dell'intera comunità, perché la cosa bella di questa attività che noi abbiamo intrapreso è la creazione di una comunità non soltanto a monte di agricoltori che collaborano con noi ma anche a valle di persone che hanno intrapreso questo cammino, quindi di clienti, di amici che ci hanno così fortemente sostenuto dandoci anche la forza di proseguire questo cammino. Anche la presenza qui a Mola per noi è un ulteriore segnale di grande sostegno che stiamo ricevendo che ci ha reso ovviamente molto molto contente. Io sono stato invitato qui come autore che ha pubblicato alcune monografie sulle vittime innocenti di mafia oltre ovviamente ad altri tipi di interventi. Una società pacifica non è possibile pensarla senza la liberazione dal gioco mafioso che non avviene esclusivamente attraverso le attività giudiziarie, attraverso le attività magistratuale ma avviene attraverso il sommovimento di una società civile che decide di operare le strategie di cambiamento. Non semplicemente di dire no, ma di operare le strategie di cambiamento. Allora ripercorrere le storie di resilienza di alcune vittime di mafia significa individuare i percorsi, le possibilità, le strategie, le dinamiche attraverso le quali è possibile pensare una società che probabilmente noi non lo sappiamo è già in atto e soprattutto ha in sé i germi di un cambiamento che è sotto gli occhi di tutti e che dobbiamo soltanto potenziare e valorizzare. Sono occupata della tutela dell'ambiente dal punto di vista giuridico, quindi dopo una breve premessa su quella che è stata la motivazione che ha sospinto l'Unione Europea a legiferare in campo ambientale, la preoccupazione non è stata quella di proteggere l'ambiente ma sostanzialmente quella soprattutto di proteggere le ragioni della concorrenza. Quindi da questo momento più proteso verso le esigenze mercantili siamo arrivati verso gli anni 90 all'emersione di questo principio di sviluppo sostenibile che si è esplicitato soprattutto con la conferenza di Rio de Janeiro. Dallo sviluppo sostenibile siamo poi giunti al concetto di economia circolare, quindi la differenza tra sviluppo sostenibile ed economia circolare si sostanzia in pratica in una via più operativa con la quale lo sviluppo sostenibile può essere realizzato tramite appunto i principi dell'economia circolare perché ricordiamo lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che soddisfa le esigenze delle generazioni presenti senza andare a ledere i diritti delle generazioni future. L'economia circolare invece crea una via più concreta, più operativa affinché il pianeta possa essere salvato. In particolare l'economia circolare si collega alla gestione dei rifiuti ma non soltanto. Proprio il punto 16 dell'agenda 2030 ci dà una via da seguire ossia il coinvolgimento di pubblica amministrazione, cittadini, imprese, istituzioni. Tutti noi siamo coinvolti nella gestione dell'ambiente e dobbiamo rispettare le leggi, le direttive, i principi ma anche cercare di diffondere sempre di più il rispetto per il nostro pianeta Terra e per le risorse ambientali. Mi sono soffermato sugli elementi che generano le fratture sociali tra le persone soprattutto sulle disuguaglianze che non sono solamente disuguaglianze che nascono da fattori economici ma sono disuguaglianze che viviamo quotidianamente anche nella nostra Puglia se pensiamo a delle disuguaglianze che derivano dal proliferare di periferie che sono sempre di più i paesini che sono nelle aree interne o i paesi che sono lontani dai grandi capoluoghi di provincia. Periferie delle grandi città sempre più sconnessi rispetto a quello che è il centro. Se parliamo anche di quelle che sono le disparità che nascono dall'utilizzo della tecnologia quindi se pensiamo che sostanzialmente ci sono dei campi dove la ricerca e lo sviluppo finanziatico a fondi pubblici sostanzialmente vengono utilizzate da imprese private che poi brevettano acquisiscono chiaramente i layout di processo e a quel punto impongono la loro legge di mercato. Su questo per esempio anche l'infrastrutturazione digitale. Bisogna avere una visione, una visione di lungo periodo, capire qual è la Puglia, se parliamo di Puglia ma quale mezzogiorno direi io che vogliamo trovare tra 5 anni, 5-10 anni scavalcando questa campagna elettorale continua ma pensando proprio qual è il nostro desiderio. Beh e allora lì sostanzialmente le opportunità le troviamo perché nell'ambito della strategia ci sono diversi strumenti. Tra questi sicuramente c'è ed è appena partita la riforma del terzo settore, un ruolo fondamentale riconosciuto non solo alla cooperazione che lo ha riconosciuto già in Costituzione ma anche a quelle attività di solidarietà e di promozione della partecipazione attiva non contemplativa dei cittadini che sostanzialmente della cittadinanza attiva e quindi tutte quelle forme di anche volontariato e associazionismo oltre che di cooperazione il cui ruolo oggi è riconosciuto in un'autonoma riforma che dà tutti quegli strumenti di promozione e sviluppo che possono servire a invertire il trend e quindi società pacifiche che diventano sostenibili perché a quel punto si inverte il paradigma economico e si innesta un principio generativo, quello di nascere, sviluppare e lasciare andare senza estrarre valore dei territori ma facendolo rimanere sulla comunità. Il bilancio di questo incontro è stato sicuramente positivo l'intervento dei quattro relatori è stato apprezzato dalla platea soprattutto sul tema delle società pacifiche dove ciascuno ha potuto esprimere quelle che sono le possibilità future per la realizzazione di queste società pacifiche questo ci fa anche ben sperare per il prossimo appuntamento dove inviteremo uno start-upper lombardo per parlare di aziende nel campo dell'energia sostenibile tema molto sentito anche nei nostri territori.